Sospetto armato di fucile a pompa minaccia di uccidere un ostaggio ogni ora se non gli verrà consegnato il denaro prestare massima attenzione. 3 chiediamo intervento squadra SWAT. Squadra SWAT sul posto intervenire intervenire siete autorizzati ad intervenire. Qui squadra SWAT ricevuto interveniamo. Alza le mani! Mi avvicina al sospetto! Aspetta immobilizzato, la sala è sicura, mettiamo l'ambulanza sul posto Ottimo lavoro 10 David, mandiamo subito un'ambulanza Facciamo un grosso applauso